La giornata, la giornata La giornata vengono di notte e trovano ragazzi che scappano, correre, lanciando. Da questi binari li dobbiamo portare nella platea di lavaggio, ci sono gli acidi particolari, le spazzole, le cose, vengono pulite. Cosa state facendo? Chiamo la polfera e scappano. Saltano, saltano, saltano di qua, saltano di là, dappertutto. La polfera e scappano. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 7, 4, 3, 1. 7, 4, 3, 2, 1. 7, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 9, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 10.